Secondo lei i sistemi, gli strumenti tradizionali utilizzati per fare impresa nel nostro paese e per finanziare gli interventi in ambito edile possono essere opportunamente utilizzati anche in quest'ambito oppure lei pensa che sia necessario avvalersi di strumenti innovativi in campo finanziario e anche di imprese con assetti societari innovativi rispetto agli schemi tradizionali? Allora, dal punto di vista del finanziamento c'è secondo me un grande problema che è quello di lentezza del sistema. È un problema di lentezza dovuto a un insieme di variabili, in primis sicuramente il periodo che stiamo vivendo di pandemia, gli aspetti burocratici e normativi del super bonus legati alla pubblica amministrazione, pensiamo ad esempio alle fasi di progettazione e verifica urbanistica, la lentezza degli stessi intermediari finanziari, probabilmente lenti e poi vedremo perché, sia nella fase di accensione di nuovi finanziamenti ma anche magari nella fase di smobilizzo del credito. Tutto questo in realtà è in un quadro di norme relativa al super bonus che a volte sono poco chiare e un po' ingarbugliate che richiedono dei chiarimenti da parte dell'agenzia e dell'autorità. Il primo problema concreto quando parliamo di finanziamento del super bonus è quello del prefinanziamento dei lavori. Non sempre la piccola media impresa è in grado di applicare lo sconto in fattura al cliente, perché la normativa prevede che lo smobilizzo del credito d'imposta si abbia con un primo sale al 30%, questo significa per la piccola impresa la necessità di doversi prefinanziare sul mercato e quindi implica la necessità di avere un accesso ad un canale bancario che a sua volta richiede delle garanzie ed un rating bancario. Sappiamo tipicamente quali sono i problemi delle piccole e medie imprese italiane dal punto di vista della loro struttura finanziaria e le difficoltà che hanno nell'accesso al finanziamento al canale bancario. Il finanziamento diretto invece del committente, quindi laddove sia invece il committente e non la piccola e medie impresa richiedere un prefinanziamento, invece presenta altri problemi. Gli intermediari recentemente hanno creato dei prodotti finanziari nuovi che dovrebbero in qualche modo sostenere ed aiutare il committente ad ottenere un prefinanziamento per eseguire i lavori del super bonus, anche in relazione al ridotto rischio legato poi allo smobilizzo del credito allo stesso intermediario. Tuttavia esistono dei problemi, pensiamo ad esempio ad un condominio, è chiaro che l'intermediario ragiona con una logica bancaria quando va ad accendere un canale di credito rispetto a quel committente, però un condominio tipicamente non ha una storia bancaria, non ha un rating bancario e quindi si trova ad avere delle difficoltà importanti nell'accensione di un canale di credito, un canale di fido e questo ovviamente porta a dei ritardi perché l'intermediario ha la necessità di creare dei parametri sulla base dei quali decidere se concedere o non concedere un determinato finanziamento. A mio avviso la soluzione, che forse potrebbe ancora essere applicata, dovrebbe essere quella magari di rendere più semplici o diciamo di identificare delle percentuali di stato di avanzamento lavori minori, magari partendo anche dalla stessa progettazione, cioè nel momento in cui io termino la progettazione potrei già eseguire un primo stato di avanzamento lavori e questo sarebbe facile da finanziare e quindi far partire il cantiere. Il secondo aspetto, qui sarò un po' più breve, è per quanto riguarda la cessione del credito. Sempre parlando di intermediari, gli intermediari vogliono chiaramente essere sicuri che la procedura seguita sia corretta per non avere problemi in futuro nel momento in cui vanno ad acquistare un credito e questo implica che gli intermediari stessi abbiano creato internamente delle procedure fatte di verifiche e utilizzo di società definite come ad esempio le big four nel momento in cui devono rilasciare un visto di conformità o devono ottenere un visto di conformità. È chiaro che se io seguo una procedura diversa rispetto a quella definita dall'intermediario, quindi se ad esempio ho avuto il visto di conformità dal mio commercialista, questo chiaramente può portare a dei problemi di lentezza e quindi al problema iniziale che dicevo prima. Non dimentichiamoci che il super bonus ha poi un termine che è quello del 2022, forse 2000-2023.